Aspettiamo che arriviate. Ciao Anita, Maria Immacolata, Fabiana, ciao a tutti, mi ero dimenticata di voi, stasera mi ero dimenticata, non faccio l'ipocrita, lo dico, sono stata fagogitata dalla giornata, nel senso non è che mi ero dimenticata, oggi ho corretto i compiti, ho detto va bene, poi stasera vedo i compiti. Poi dall'oggi allo stasera sono successe talmente tante cose che avevo completamente dimenticato il corso di disegno, si erano stati salvati dalla mia pigrizia perché ero in bagno e stavo per struccarmi e poi ho detto no, mi annoio, mi strucco dopo, mi strucco dopo, sono uscita e ho cominciato a fare le mie cosine e poi non so come, ho pensato che dovevo fare un disegno, disegno, corso di disegno ed ero pronta per fortuna, se no, se no mi avreste vista scialba e sciatta e così e struccata, ma ci sarebbe stato lo stesso, non sia mai che un filo di trucco non mi permetta di essere online, però meglio così per voi soprattutto. Come state? Io sto abbastanza bene In piena preparazione cresima di Enzo perché la settimana prossima si cresima, quindi per questo ero stata distratta. Ho concluso due grossissimi lavori, quello della scuola, abbiamo presentato un megalodontico progetto sul riciclo, vi farò vedere le immagini, abbiamo abbellito col riciclo tutto un corridoio di una scuola comunale di Catania, bellissimo, è avvenuto un lavoro meraviglioso. E poi ho finito finalmente di elargire video per Raffaele, non finalmente perché mi pesasse, ma perché ho un'altra scadenza giorno 15 maggio che è qui e che mi pressa, di cui vi parlerò. E quindi sono sommersa ragazzi, sommersa dal lavoro, ma meno male, perché a me piace il mio lavoro, quindi mi piace farlo in più. Io devo consegnare un mobile a una cliente che me lo ha affidato, la sto allungando un po', mi sa che prima o poi questa mi tira le orecchie, giustamente, ma speriamo di no, confido nell'amicizia. Ma insomma, e anche il mobile sta venendo molto bene, quindi sono contenta, sono molto contenta. Voi, fai un tutorial su come disegnare un occhio socchiuso? Va bene, lo faremo. Adesso che mi libero dopo il 15 maggio, potete cominciarmi a chiedere ciò che volete. Tra l'altro con Gabriele abbiamo fatto una scelta per quest'estate, perché noi arriviamo veramente estremati all'estate, perché noi abbiamo un lavoro molto intenso in inverno e pochissimo intenso in estate. E di conseguenza molto spesso arriviamo estremati, questo ci porta, avendo il mare vicino, ad optare per andare al mare ogni giorno in estate, portando Enzo. Ora, Enzo cresce e si annoia tantissimo ad andare al mare, più si cresce più si annoia, ci siamo passati tutti, credo, e quindi si antonella, ovviamente. E quindi, cosa succede? Abbiamo deciso di fare delle vacanze normali quest'estate, cioè non scendere al mare ogni giorno, ma approfittare magari dei weekend e prenderci giusto 15-20 giorni di ferie e ferie. Sì, si annoia al mare, è a 10 anni, quindi è quella... Però a me fa bene che si annoia al mare, vi spiego anche il perché. Perché? Perché interrompere da giugno a settembre, vuoi o non vuoi, rallento anche... No, secondo me con il pennello a ventaglio io non riuscirei. Mi interrompe il ritmo e poi riprenderlo, io comincio a riprendere il ritmo verso febbraio, a riprenderlo a mo' di treno. Invece, questa non è una macchia ragazzi, è acqua, mi sono sgocciolata un po' d'acqua addosso. E quindi quest'estate Arte per Te sarà molto attiva, tutto questo preambolo per dirvi che quest'estate Arte per Te sarà molto attiva. Poi magari invece andiamo al mare e rallento come l'anno scorso, ma speriamo di no, perché mi dispiace rallentare in estate. Mi crea proprio un senso di affanno mentale. Ho sempre il pensiero, però non devo lasciarli, però non devo lasciarli invece così, voglio continuare a lavorare. Perché ragazzi, lavorare mi piace fondamentalmente. È per quello, mi piace, mi sento molto più produttiva che non stare sdraiata, arenata sulla spiaggia. E quindi, dove andrò? Perché noi ragazzi, se vogliamo andarci a fare un tuffo, anche se finiamo di lavorare alle sei, vero, Daniela? Ecco, è arrivata, quella che digita i tastini. Tra l'altro andrò con lei a mare, con Daniela. Finiamo di, ecco, faremo così con Daniela. Finiamo di lavorare e poi ci prendiamo la macchina e ce la andiamo a mare. Daniela è una mia cara amica, che era, ero felice di avere questa amica, perché abitava fuori Catania e quindi non c'era bisogno di vederci così soventemente. Però sono, sapete, quelle amicizie che io prediligo, quelle a distanza. Bene, la vita purtroppo è beffarda in molti casi e con me, oltre al suo, ci ha messo anche il fatto che Daniela da quest'anno si è trasferita a 100 metri da casa mia. E quindi è sempre qua, ragazzi, è sempre qua. E quando non è qua, è là. È una, così, come dire, stalker, ma no, diciamo di no. Poi quando deve venire, se la dà a gambe. A me succedono cose brutte. Ma adesso basta l'utilizzo del mezzo per messaggi subliminali privati. Sì, vero, Dani. Passiamo invece, perché alle persone non interessa. Come stiamo bene? Stiamo bene. E invece passiamo al corso di disegno. Voi come state, innanzitutto? Ho letto di qualcuno che è di nuovo a casa col Covid. Ci hanno letto che il Covid è passato. Lo so che non è così, ma viviamocela così. Come dobbiamo stare, ragazzi? Con l'ansia che Putin sganci qualcosa di biologico in giro. Con la consapevolezza che la mia città sta per essere seppellita dai rifiuti. E con la felicità di avere Daniela vicino casa. E quindi stiamo così, andiamo avanti. Perché non è stato un rifiuti? Come? Perché non è elencato dopo i rifiuti? Non so, è stato un collegamento così. Detto ciò, anche tu hai il Covid, Bertilla? No! Mi dispiace. Anche la mia amica Daniela l'ha avuto, il Covid. Sono stati 15 giorni senza vederli. Bruttissimi, devo dire. Hai mal di testa. Questo mi dispiace, Maria Sole, perché io ti capisco. Ti capisco. La stacca, poi te la vedi dopo. Poi te lo vedi dopo. Scherzi a parte. Scherzi a parte. La mia amica Daniele è preziosa. Infatti prima o poi la venderò. E Shery sta facendo crollare tutto. E adesso cominciamo. Forza a chi è il Covid. Forza a chi sta male. Chi ha il mal di testa, stacchi. È esonerato. Ecco, tutti i giorni di festa a casa. Ora, oggi mi sono resa conto che finalmente i bambini. Tu raffreddata, Maria Celeste, con mal di testa. Ma no Covid, per fortuna. Ragazzi, fatevi passare questo mal di testa. La salute ballerina. Posso pensare di rifare il primo anno e pensare che ci tenevo tanto. Sì, puoi pensare di rifare il primo anno se vuoi. Fammi vedere qualche disegno e poi decidiamo insieme. Se ti ho chiesto già di passare un secondo, non ne vale la pena. Però se ti fa piacere, sì. Allora, parliamo di uova. Visto che è da poco passata la Pasqua e spero che abbiate passato una bella e serena Pasqua. Magari a casa, ma serena. Allora, che dire. I disegni in linea di massima erano tutti di un livello eccellente. Avete esagerato nella colori in molti. Ci sono stati due estremi. Alcuni hanno esagerato nella coloritura delle uova. Una campitura piena, un colore a campitura piena, con dei riflessi bianchi non netti, vi mette in crisi. E quindi ho visto che vi siete persi nell'adagiare le luci su queste uova. Ma io, prima di parlare delle luci che effettivamente erano la cosa difficile delle uova, perché essendo l'uovo un materiale opaco, assorbe la luce senza rifletterla, quindi domandiamoci sempre cosa stiamo disegnando. In un materiale ruvido e quindi opaco, la luce si insinua e si spande, non riflette perché non viene pumpata via dalla specchiatura del materiale e di conseguenza si dirà ma leggera e leggiadra per tutta la superficie. Ma c'è. Ma quello che a me ha stupito delle vostre uova è che avessero delle forme mirabolanti. Uova punta, uova blunghe, le hanno tirate fuori dal culetto della gallina col forcipe? E no, e no, dovete imparare, oggi sono spiritosa, dovete imparare, potete mettere anche pollici in due, dovete imparare a stabilire le forme certe, questo è importantissimo. Aspetta, c'è qualcuno che lavora nella ferrera? Ecco, e tu lo dici così? E non hai mandato una fornitura per un anno di robbi scarti della ferrero? Noi prendiamo tutti i pacchetti di merendina tarati, vedi mi sono interrotta pure dalla lezione, scherzo. Allora, beata tu. Ma è calogero. Ah, beato tu. Allora, che vi stavo dicendo, quindi la forma certa dell'uovo. Le avete fatte, cosa c'era da guardare nell'impostazione di queste uova? Innanzitutto la grandezza e il rapporto tra la ciotolina e la grossezza delle uova. Perché le uova dovevano stare all'interno di quella ciotolina, quindi in una parola l'osservazione. L'osservazione in primis, la proporzione in secundis, la forma. Ma la forma della ciotolina, qualcuno l'ha fatta squadrata. Perché? Perché da tonda è diventata quadrata la ciotolina? Perché alcuni hanno tolto il bordo della base? Perché non guardate? Non è perché non sapete fare una forma tondeggiante. Questo lo escludo. Poi, la grandezza delle uova. Se fate un uovo lungo così, il resto non c'entra più. Oltre a non far capire che è un uovo. Anche se date un chiaroscuro perfetto, se cambiate la forma è difficile capire che sia un uovo. Perché l'uovo ha sempre quella forma. Guardateli questi piccoli disgraziati. Possono essere più grandi, possono essere più piccoli, ma hanno tutti quella forma. E non potete sbagliare. Non ci sono uova squadrate. Le uova sono tonneggianti, morbide e opache. È questo che le rende difficili da disegnare. Fatto ciò, quindi, fatta la forma tondeggiante, l'altra difficoltà sta nello spandere il colore. È una campitura piccola, compatta. E quindi, cosa succede? Entra in gioco lo sfumino. Voi colorate tutto, sfumate, quindi compattate il colore. Dopodiché, con la gomma pane, tirate picchiettando fuori le parti più in luci e fessurando, facendo la schiacciata, facendo le fessure di luce sui bordi lì dove ci sono. Quindi, riprendete la matita e riscurite le parti più a margine, ma soprattutto riscurite i retromargini. Cioè, uovo numero uno si addossa all'uovo numero due. Ok? Guardate qui che ombra che arriva. Quest'ombra, questa che si crea qui, questa che si crea qui, su questa parete dell'uovo, quella va tenuta scura, scura. Vedete come si fa subito scura, scura, scura. Vedete il profondo tra i miei polsi? Quello è la profondità. E va fatta. Allora, è quello che dà la gettante in una superficie opaca che non riflette la luce a specchio. Quando dovete cadenzare le forze, se non c'è una specchiatura, quindi se non c'è un bianconetto di luce, deve esserci un nero profondo di ombra, in modo tale che anche quel bianco che non è bianchissimo vada fuori e divenga a gettante. Questo. E poi ho visto delle uova poco convinte, delle coloriture poco convinte. Anche il bianco e nero non stiamo facendo la tecnica dell'acquerello, quindi nel bianco e nero il bianco non deve essere dato da una mancanza assoluta di coloritura. Casomai andiamo in sottrazione, cioè prima mettiamo la coloritura e poi la togliamo. Ma quei chiaroscuri fatti di un semplice strato di colore, così deboli, così poco convincenti, non ci piacciono. A noi piacciono i chiaroscuri ricchi, grassi, lavorati, quindi lavoratelo molto il vostro disegno. Quelle linee di contorno di cui non voglio neanche più parlare, non le voglio più vedere. Qui le linee di contorno andavano tutte a perdersi nel chiaroscuro di ciò che ci stava dietro. Quindi allenatevi a eliminare linee che non esistono, se non nella nostra immaginazione, ed allenatevi a superare i vostri limiti. Ho visto persone che hanno fatto benissimo le cose difficili e malino le cose facili. Quindi questo è frutto della paura di sbagliare. Sulle cose difficili super attenti, sulle cose facili ci si rilassa o le si fa prima pensando alle cose difficili e le si fa male. Quindi fate tutto nel vostro disegno con la stessa attenzione. Di contro, su cosa complimentarvi? Sulla pulizia dei disegni, sul fatto che i fogli non fossero sporchi, sul fatto che comunque l'80% di voi ha condotto un disegno che poteva essere definito ottimo, da chi non aveva la matrice davanti. Cioè un disegno è composto di due momenti di valutazione. Il momento di valutazione aspro, cioè quello che faccio io con la copia accanto, è il momento di valutazione dolce, armonica, da fruitore di colui che vede un disegno di alcune uova e dice wow che sono fatte bene queste uova, non sapendo magari che la ciotola quadrata in realtà era tonda. Può piacere anche la ciotola quadrata. Certo, se io so che è tonda ti dico non hai guardato bene, ma chi guarda il disegno può anche essere catturato dalla ciotola quadrata. Quindi non scambiate le valutazioni che vengono da valutazioni. I consigli che vengono dati all'interno di questo corso, come degli assolutismi, sono dei consigli relativi ad un corso. Lo stesso disegno mostrato in una galleria, mettiamo in una mostra senza avere l'originale appresso, potrebbe sortire un effetto totalmente differente e dei complimenti molto più abbondanti rispetto magari a quelli che vi faccio io. Che comunque vi vizio e vi complimento abbastanza, quindi non potete lamentarvi. In generale comunque siete andati molto bene, motivo per cui stasera alziamo la sticella. E adesso Gabriele vi pubblica il compito nuovo, che non è quello che vedete in copertina della famiglia, ma non è quello che vedete in copertina. Cosa voglio studiare insieme a voi? La profondità, lo scuro, il buio. E di conseguenza vi devo spingere in questi meandri, però non in maniera triste, ma in maniera misteriosa. Va bene? Adesso Gabriele pubblica la foto. Io le foto le prendo sempre da Pixie Bay, quindi se la qualità non dovesse essere di vostro gradimento, potete andarvela a cercare, ma penso di averla scaricata in un'ottima risoluzione. Avete un bel po' di tempo per farlo, quindi è il penultimo compito e posso anche dirvi quello che leggerete in didascalia, che per i più temerari do il via libera all'uso delle matite colorate. Cominciamo un po' prima, il primo anno è già pronto da un pochino, direi anche, quindi i più sicuri, quelli che si sentono pronti, possono cominciare ad avere di mistichezza con le matite colorate già da questo compito, tranne che per lo sfondo, che assolutamente invece deve essere condotto a grafite e deve essere fatto. Proprio perché voglio fatto bene lo sfondo, ho ridotto il formato, vi ho detto di fare il compito in formato A5. Condividi, condividi. No, 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 è sull'album compiti di disegno e naturalmente il compito va postato come commento. L'opaco delle uova non lo devi, è reso dando una campitura e passandoci lo sfumino sopra, è già reso. Non devi spezzare con un chiaroscuro lucente e non devi fare riscaldare soprattutto la mina per non fare uscire fuori la cera. Allora, abbiamo il compito, è bellissimo, le foglie, la Kenzia, nero e verde, nero e verde questo compito con tanti colpi di luce e tanta tanta profondità. Guardate la profondità di questo foglio, ci sono ben uno, due, tre strati di profondità. Potete farcela, guardate che la Kenzia in realtà è un disegno molto semplice da fare. Come si rende la luce con i colori? Guardiamoli, in alcuni punti non colorando, in altri punti passando del bianco, in generale colori di meno. O guardi il colore che è e metti quel colore. Non guardare la luce, quando disegni non devi pensare, oh ora devo fare la luce. Quando disegni con i colori devi semplicemente riportare il colore che vedi e quello sarà la luce. Basta cambiare la tonalità di verde e mettere un verde con più giallo, diventa automaticamente un verde in luce rispetto ad un verde che ha del nero all'interno della foglia. Quando invece c'è quella parte col bianco, parti dal colore che vedi. Quindi non tu sai, il tuo pensiero logico sa che quello è il riflesso della luce, ma tu invece cosa vedi? Ci vedrai magari del bianco, ci vedrai del grigio, ci vedrai dell'azzurro, ci vedrai del verdino. Insomma divertiti a sperimentare. Soprattutto prova i colori prima su un foglio a parte, prima di metterli subito lì sulla foglia. Consigli sulle matite colorate da comprare? Allora, io utilizzo sempre, spesso, le Stabilo Aquacolor, perché sono sia acquerellabili che normali. Non hanno però un blender. Se volete delle matite invece che non siano acquerellabili, io uso, 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 non mi viene mai il nome, come si chiamano? Le Prismacolor, le Faber-Castell, quando voglio usare il blender. Ma se le volete morbide, a me piacciono le ottime anche quelle della Lira. Andate in un negozio di belle arti e provatele. Le Prismacolor sono molto belle. Il blender, c'è il video su Arte per Te, Morena. Vai a vedere che cosa fa un blender. Il blender è la matita magica, quella trasparente che mescola insieme i colori. Vai, vai a vederti il video e vedrai che ti si apre un mondo. Le Policromos dicono di essere buone, io non le ho mai provate. No, sono buone, sono buone. Ma io non le ho, quindi, e non le compro apposta. Cioè, no, non le compro che glielo faccia apposta. Non le compro solo per provarle. Ma tu cosa consiglias? Si parte dalle foglie e poi si fa il fondo, si parte dal disegno. Quindi, cosa c'è disegnato in questo foglio? Le foglie. E quindi disegnerete il contorno delle foglie. Dopodiché, passerete, fare lo sfondo o fare le foglie è esattamente lo stesso. Io abbozzerei leggermente, colorerei leggermente le foglie, poi farei lo sfondo e poi tirerei fuori i colori esatti dalle foglie. Io, Stabil Original e Prismacolor, usa le Prismacolor. Ciao, non sono riuscita a fare il compito delle uova. Posso inviartelo insieme a quello nuovo? Sì, come commento, lascerò un like guardandolo. Lo guarderò. Se ci sarà qualche strafalcione grosso, te lo farò presente. Se invece va bene, lascerò semplicemente un like. Del Blender ne ho comprato due, da parte sempre della Prismacolor. Mi hanno cambiato la vita, eh, immagino. Immagino. Se avete qualche domanda, se no, vi lascio. Perché non abbiamo più niente da dirci. Vi ho raccontato tutto. Ecco, siete stati molto bravi, ragazzi. Questo primo anno è molto soddisfacente. Non c'è il terremoto, la tenda, non si muove per via di un fantasma. È Sherry. Sherry! Le Zonert, come sono, non le conosco. Non le conosco tutte le matite, ragazzi. Anche perché le matite a me durano, quindi... Volete vedere, Sherry? Vieni qui. No, anche perché le produttive sono dei pidocchiosi. Non è che queste le mandano. I pidocchiose. Smettila. Vieni qui. Sherry adesso venerdì va dal tolettatore. È una pelosona. Poi ho già mangiato la pasta con la salsa ed era tutta rossa. L'ha salto. Moki, Moki, Moki. Io la adoro, la adoro. Ma ciao a tutti. Allora, dovete disegnarmi tutti i peli. Tutti i peli mi dovete disegnare. Guardatene, ho uno qui, uno qui. Mamma, mi lasci? Sei imbarazzante. Allora... Tu vuoi la camicia di fondo. Saluta. Ciao a tutti. Ma i manicomi non li hanno die pezzi, vero? Solo nero si può aggiungere qualche colore. Non è nero il fondo. Ci sono degli altri toni che potete fare. O di grigio o aggiungendo quel colore che c'è. Ombretta, meglio le Prismacolor o le Carbotello? No, le Carbotello non sono matite colorate. Le Carbotello sono pastelli a matita. Non confondiamo. Carbotello no. Matite colorate. Facciamo un distinguo. Matite colorate. Pastelli sono due cose diverse. C'è il video. C'è il video. Le Carbotello sono dei pastelli infilati dentro una matita. Non sono matite colorate, no. Ma un nero così scuro sarà un problema. Eh, lo so. È quello il compito, infatti. La Kenzia è facilissima. Cosa possiamo cercare per avere la stessa foto ad alta risoluzione? Foglie su Pixabay. Ma questa è ad alta risoluzione. Perché l'ho scaricata apposta. Mi sono iscritta a Pixabay per scaricarvela bene. Certo, non è a 5.000, ma è a 1.200, insomma. Ma è una buona, si vede. È ottima. Che dovete vederci. Pure gli acari della Kenzia. Va benissimo. Se uso le stabili Aquacolor, come le sfumo? A secco, come delle normalissime matite colorate. Non è che tutti usano il blender. Anche però, comunque, qui non è che ci sia tutto sto grande da sfumare. Devi colorare. Puoi postarci il link dei video utili per il primo approccio al colore. Vai su Corso di disegno, Domenico. Vai su Arte per te. Vai sulla playlist. Cioè, la scrittina playlist. Vai su Corso di disegno. E cliccaci sopra. E ti si apriranno tutti i video. E ti andrai a scegliere quelli che preferisci. Perché non so cosa ti può essere più utile in questo momento. Per lo sfondo, innanzitutto capitelo. Capitelo dove ci sono foglie. Capite invece dove è solamente con penetrazione di nero. E dopodiché cominciate piano, piano, a rimettere. Non è difficilissimo. È solo pieno. Ma non è difficile. La kenzia è una cosa facilissima. È una cosa dritta. Con degli spuntoni. Cioè, è molto facile. Non è una forma difficile. Ragazzi, non vi fate ingannare dal movimento del soggetto. Non è una cosa difficile. Studiate naturalmente la forma della foglia. Guardate come vanno. Ma è molto più semplice di tanti disegni che vi ho dato. Qua veramente l'unica difficoltà è il nero del fondo. Anche perché io, disgraziata, vi ho chiesto di farmelo a matita. No, il blender non funziona con le stabili acquerellabili. Perché le stabili acquerellabili non hanno una mestica né a cera né a olio. Sono idrosolubili. Certo che possono andare bene anche le Faber-Castell acquerellabili. Tutte le matite vanno bene, ragazzi. Le luci sono azzurrognole. Sì, in un certo senso, sì. Non tutte. Sì, alcune sono giallognole, alcune rossognole. Guardate le benognole. E allora? Osservate, osservate. Non abbiate fretta, ragazzi. Sì, avete, mi pare, fino al 17 maggio. Insomma, ne avrete di tempo per... Potete fare una foglia al giorno se cominciate da domani. Ok? Bene. E allora, che fa? Vi abbandono al vostro verde destino? Avete qualche altra domanda? Ciao, Ombretta. Per quanto riguarda la proiezione delle ombre di un oggetto, esempio, l'ombro della ciotola sul tavolo, ci sono delle tecniche geometriche? Sì. L'ombra portata ve ne ho parlato all'interno di un video del corso di disegno, se non mi sbaglio. Più che altro, delle regole geometriche sono date dalle proiezioni. E la proiezione deriva dalla luce. Quindi devi innanzitutto capire da dove arriva la luce, dopodiché, idealmente, tracciarti. Per esempio, c'è questo che si intrappone tra la luce e un oggetto. Devi tracciare delle linee all'interno delle quali cade l'ombra dell'oggetto. Sì, c'è, mi pare che ci sia. Se non c'è, ditemelo che ve lo faccio. Andrea, vai a nanna. Chi è Andrea? Che ha detto? Ciao, Ombretta, come stai? Sono Andrea. Ti scrivo sul tablet. Andrea, vai a nanna. Ma chi è Andrea Comes? Oh, i compagnetti di Enzo. Andrea, come state solo? Bene. Vai a nanna. Bene, bene. Molto bravi questi ragazzi del primo anno. Grande, grande soddisfazione, devo dire. E allora? Andiamo a nanna? Che ne dite? No, no. Voglio andarmi a vedere qualcosa con mio maritino sul divano. Io non voglio vedere niente con te. Non vuole vedere niente con me. Chi vuole vedere qualcosa con me sul divano? Il divano facciolo io. È seccato con me. Perché io sono seccata con lui, quindi è una cosa. È un cane che si morde la cosa. Bene, tra un po' andremo a vedere qualcosa sul divano. Per favore, puoi spiegare come si dipingono le ciglia? Te ne sarei grato. Allora. Le ciglia si dipingono con un pennello sottile. L'importante delle ciglia è non fare questo lavoro. Guarda, vi faccio vedere. Questo lavoro alla Chiara Ferragni. Ok? Dico alla Chiara Ferragni perché richiama il suo logo. Ma per le ciglia è sempre bene fare questo lavoro. Cioè fare la curvetta che passa sotto l'arco e si rialza. Adesso io fartela al contrario mi viene molto difficile. Ok, ma in generale devi passare, te lo faccio al contrario, passare un po' da sotto e uscire. Questo è il movimento che devi fare. Una accanto all'altro, da una parte e dall'altra. L'importante è non fare questo perché questo è fasullissimo. C'è un video dove ho fatto l'occhio e vi ho fatto vedere anche come fare le ciglia. No, assolutamente per adesso blender voi non ne dovete usare. Siete troppo piccoli. Bene. Allora ragazzi, vado a tirare le orecchie a Gabriele. Puoi consigliarmi un pennello per le ciglia? Un triplo zero. In martora sintetica. Un doppio zero in martora sintetica. Anche uno zero. Come si chiama? Quello per le ciglia. Lo scovolino del mascara. No, non funziona. Va bene? E allora ci vediamo prestissimo. Domani spero con un nuovo video. Ci sarebbe stato senz'altro se Gabriele non lo avesse cancellato. Vi avevo fatto un bellissimo disegno con... Non ve lo dico perché per domani ve lo faccio. Era un disegno molto carino. Molto naifo. Molto bello. Che purtroppo non vedrete mai perché Gabriele ha cancellato il video. Bene ragazzi. Vi metto un grande bacio. Lo sei incazzato da quel giorno. Vi voglio bene. Noi ci vediamo. Spero domani con un nuovo video. Sicuramente domani con un nuovo video. E prestissimo riprendo. Sabbro riprendo la programmazione anche sul canale Ombretta. e speriamo di sperimentare qualcosa anche per due colunacappa. Seguitemi sempre. State con me. Bravissimi tutti. Mi raccomando. Per qualunque domanda ponetemela sempre sotto la foto. E noi ci vediamo. Qui. Sempre su Arte per te. Ciao. Vi voglio bene. Buonanotte. Ciao a tutti. Anche i grandetti. Quelli del secondo, terzo anno e quarto. Ciao. E senior. Ciao. Ciao.